Terza cassetta, lato B C'era uno studente che fumava sempre, giovane, più giovane di lei, ma con le dita già ingiallite della nicotina, che aveva incominciato a chiederla tutte le sere. Non era neanche male, un po' troppo pallido, un po' troppo esile, ma bello, con quegli occhi azzurri, quella faccia un po' da diavolo, i capelli che non volevano stare indietro e scendevano sempre sulla fronte. E poi ricco. Abbastanza almeno perché il direttore della rivista aveva alzato il prezzo degli incontri e della camera dell'alberghetto che sapeva lui, e quello non aveva detto nulla. Però era strano quel ragazzo. La prima volta non aveva fatto niente, aveva voluto che lei restasse in piedi in mezzo alla stanza, vestita come un'odalisca, mentre lui le girava attorno, le sfiorava la pelle con le mani e con le labbra, avvicinando la faccia come se volesse annusarla. Si era anche steso a terra tra le sue gambe aperte, ed era rimasto a guardarla da laggiù, in piedi, in mezzo alla stanza. Poi le altre sere aveva cominciato a toccarla e a baciarla e a chiedere a lei di toccarlo e baciarlo, stringerlo e morderlo, e schiacciarlo. Afferrarlo per il ciuffo, e scuotere, tirare, stringergli il labbro tra i denti, forte, tutte le volte che si avvicinava alla sua bocca per baciarla, colpirlo sul sedere nudo con la mano aperta e graffiarlo con le unghie. Montargli in ginocchio sul petto, con tutto il suo peso, fino a troncargli il respiro, e poi scivolare in avanti, sedersi sul suo volto e chiudere le cosce. A lei non dispiaceva, lo trovava divertente. Quelli che volevano fare l'amore normalmente, lei sotto e lui sopra, c'erano e bastavano, e avanzavano anche. E poi arrivò quel commerciante di vini. La sera in cui conobbe quella che sarebbe stata sua moglie, il federale non era ancora il federale, ma lo sarebbe diventato presto. Lui alla rivista non ci voleva neanche andare, e neppure alla cena, prima e al bordello che avessero stabilito per dopo. Sarebbe volentieri rimasto a casa a leggere due lire di novelle, poi se ne sarebbe andato a letto, ma non fu possibile, perché suo cugino, il direttore delle cantine, partiva il giorno dopo per marciare su Roma e bisognava festeggiare. A lui invece i fascisti non piacevano. Se era iscritto e tesserato e figurava perfino nei ranghi di una squadraccia, era solo perché suo cugino finanziava il fascio e gliel'aveva imposto come contropartita. Per il resto aveva rifiutato qualunque partecipazione che non fosse puramente nominale. Non gli piacevano i fascisti, gli facevano paura. L'aveva anche detto a suo cugino quella mattina quando si erano nascosti dietro la tenda della finestra dell'ufficio e avevano guardato giù nella strada davanti alla cantina. C'era stato uno scontro per lo sciopero e due fascisti tenevano un uomo per le gambe a terra e lo colpivano con i bastoni, mentre un altro lo prendeva a calci in testa. — Sta zitto, scemo! — aveva detto suo cugino. — Vuoi gli scioperi? Vuoi che chiudiamo? Vuoi finire in mezzo a una strada anche te? Se ti dà fastidio non guardare. Così lui si era voltato dall'altra parte, e la sera era andato al ristorante con suo cugino, il conte padrone delle cantine, un ex capitano con la medaglia d'oro e i due squadristi, a sentir raccontare di quella volta che avevano trovato una camicia nera decapitata e sbudellata, arrancolate, dai contadini della Lega, e per rappresaglia, madonna bona, si dette fuoco a tutto il paese, con i carabinieri che guardavano dall'altra parte. E quando l'ex capitano disse «che si va al bordello?» e «basta parlare col capo comico» e «vai via, sono io», lui aveva già bevuto abbastanza da accettare e urlare anche «ei a ei all'allà» con tutti gli altri. Gli toccò l'Odaliska naturalmente, a lui che le colonie insomma, anzi, ma insistettero così tanto che non potè tirarsi indietro. L'Odaliska, strano a dirsi, si chiamava Vanda. La moglie del federale, che ancora non lo era, ma avrebbe deciso di diventarlo quella notte stessa, si chiamava Vanda soltanto da due giorni. Quel nome glielo aveva dato lo studente e le aveva regalato anche un paio di stivaletti che le stavano stretti sui polpacci e un frustino da cavallo, e poi, con Vanda in piedi sulla sua schiena, in equilibrio sui tacchi alti, si era fatto colpire forte sul sedere. Il guaio fu che durante la notte quei segni rossi che gli attraversavano la pelle si erano infettati e al mattino lo studente aveva dovuto chiamare il dottore. La sera dopo Vanda lo aveva incontrato nella camera dell'alberghetto, vestito con la sigaretta tra le dita e appoggiato in piedi allo schienale della poltrona, perché non si poteva sedere. Le aveva detto che suo padre aveva scoperto tutto, che lo mandava via in un convitto per universitari, sotto il controllo di un religioso, che lui non l'avrebbe dimenticata mai davvero, ma che purtroppo basta ed ecco qualcosa per il disturbo. Lei allora aveva perso la testa. Sì, perché con lo studente ci andava volentieri e le piaceva, ma soprattutto si era illusa di poterlo sposare. Era stato lui a diglielo nei momenti più intensi. Insieme avevano pensato a un nome decente, a un passato decente, maestrina, a Taranto, per esempio, emigrata per motivi familiari in cerca di impiego. Ci aveva creduto. Si era immaginata in piedi su di lui nella camera dal letto di una casa vera e non in quella di un albergo, e quando lo vide stringersi nelle spalle, tirando una boccata tra le dita ingiallite, alzò il frustino che aveva in mano e lo colpì, e continuò a colpirlo, prendendo il erbo per la punta per picchiare col manico più forte, e continuò anche lui finì a ferra, con le mani aperte sul volto insanguinato, finché non arrivò qualcuno dell'albergo a tirarla via, o l'avrebbe ucciso. La sera dopo fu l'ultima come ballerina di fila. Da quello che era successo di quello scatto bestiale di violenza non ricordava quasi nulla, a parte la rabbia e una sensazione amara, come dopo un brutto sogno. Ma il direttore, con il foglio di via della questura in mano, quello era reale e concreto. Nessuno l'avrebbe denunciata, perché non era il caso, però all'alba bagagli e via. Intanto, con la buona uscita, un ultimo bigliettino, esotica o dalisca, per un commerciante di vini. L'ultima notte in cui fu un commerciante di vini, il federale, era troppo ubriaco per fare l'amore normalmente, lui sopra, lei sotto. Cadde in ginocchio davanti a lei appena la vidi entrare nella stanza e riuscì soltanto ad abbracciarle le gambe piene, il volto schiacciato contro i veli dell'odarisca, prima di scuotere la testa e dire non ce la faccio. A lei non dispiaceva. Non era in vena dopo la notizia del foglio di via, così lo tenne tra le braccia a smaltire la sbronza. Lì, vestito sul letto ancora intatto, stordito dall'odore dolce del borotacco della sua pelle, la guancia sul suo seno che sapeva di latte, si innamorò di lei e lei se ne accorse. Gli raccontò la storia della maestrina di Taranto emigrata per cause familiari, che aveva preparato per il padre dello studente e lui ci credette, o finse di crederci. La sera dopo il federale andò a trovare il cugino, che era appena tornato trionfante dalla sua marcia su Roma, e gli comunicò che accettava la loro proposta di impegnarsi attivamente nel partito. C'era quell'incarico di sottosegretario del fascio sull'isola, in cui era nato. Non era molto, ma gli assicurava un titolo sufficiente a bloccare il foglio di via della questura e a tenersi vanda vicina il tempo sufficiente per un fidanzamento decoroso. Quattro settimane dopo, la maestrina di Taranto e il suo sottosegretario ex commerciante di vini si sposavano, passando sotto i pugnali incrociati di una fila di squadristi in divisa. Il giorno stesso prendevano il vapore per l'isola, e la notte facevano l'amore per la prima volta, normalmente, lui sopra e lei sotto. 28. Ci sono certi venti che si possono chiamare gentili. Sono quelli che soffiano piano, ma soprattutto sono quelli caldi. Si avvicinano con un sospiro tiepido e leggero, come il respiro di un amante timido che sussurri prima di appoggiare le labbra alla pelle. Sono le brezze di mare, di monte, il ponente, quando l'aria è dolce e levante, che se è bagnato di pioggia in arrivo, è come un secondo bacio, più intenso e umido di saliva. Sul molo vecchio i venti gentili suonavano piano, scivolavano tra le arcate e le lamine di copertura, stendendo un mormorio sottile e sommesso, come un fondo di archi, da cui si staccava ogni tanto un violino più agile o il tocco più acuto di un triangolo. Lento, ma regolare come l'asta di un metronomo, l'ufficiale postale uscillava su se stesso, disegnando un angolo retto. Ci sono poi certi venti che si possono chiamare arroganti. Sono quelli che arrivano all'improvviso, senza pudore, e spingono, scostano con durezza, come se veramente il loro soffio non fosse solo aria in movimento, ma un corpo fisico fatto di materia che ha bisogno di spazio e lo vuole in fretta. Sono venti ruvidi, che non hanno tempo, gonfi e pesanti come mani appoggiate sul petto a spingere lontano per farsi strada, e si chiamano maestro o maestrale, bora e tramontana. Più cattivo il libeccio, che prima di arrivare si annuncia con una scarica di raffiche nere, sprezzanti come una risata. Più che dal colore o dal loro effetto sul mare o sul suo corpo, l'ufficiale postale riconosceva dalla voce. Sulla pelle se li era sentiti soltanto le rare volte che usciva dal faro, ma negli ultimi tempi, a vederli scompigliare le onde, gli era quasi impossibile avvolto com'era da quella nebbia biancastra che quasi ogni giorno gli appannava le finestre come vetro smerigliato. Se li riconosceva, se riusciva a immaginare la consistenza o a ricordarne il carattere, era da come suonavano. I venti arroganti suonavano strumenti a fiato e a percussione, soffiavano forte dentro un crescendo di trombe, tube e tromboni, e picchiavano a pugni chiusi sulle gran casse e sui tamburi. Martellavano insistenti sulle campane. Da quel sipario di ovatta, oltre le vetrate del faro, così bianco e così vuoto da sembrare abbagliante, arrivava un crescendo di tuoni strappati a forza dagli occhielli dei piloni, di boati schiacciati contro le strutture tese del molo, di strilli scoccati dalle borchie dei tiranti, acuti e veloci, come fulmini. Era una sinfonia che montava, che si gonfiava rapida in quel nulla accecante, i squilli delle trombe che si rincorrevano arrampicandosi come topi, l'uno dietro l'altro, sempre più in alto, il mugito profondo delle tube e dei bassi che si allargava violento come uno schianto, le raffriche acute delle campane e le esplosioni dei tamburi, sempre più serrate, sempre più forti, sempre più veloci, finché il libeccio non sollevava un'onda di mare e la spaccava contro il molo, metallica e schiumosa, come un colpo di piatti. Ci sono certi venti che si possono chiamare diabolici. Sono quelli che vengono dall'Africa e si potrebbero anche chiamare seducenti o insistenti, ma diabolici è meglio. Sono venti che fanno impazzire, sono venti che avvolgono, che soffiano forte, ma invece di spingere sembra che girino attorno. Sono venti caldi, così secchi, che asciugano la gola e così umidi, che appiccicano il vestito addosso. Sono venti che si appoggiano, che pesano sul collo e sulle spalle, intanto soffiano, soffiano, soffiano insistentemente anche quando sembra che non lo stiano facendo, perché sono venti che fingono, che coprono il sole di polvere e sabbia come fosse notte, che sciolgono la neve d'inverno come fosse estate, che riempiono gli occhi e gli orecchi e si infilano dentro e svuotano, grattano via il cuore e il cervello, lasciando un involucro inutile, vuoto, ronzante di polvere e mosche. Alcuni di questi venti l'ufficiale postale li conosceva di persona, come lo scirocco, di altri aveva sentito parlare da chi era ritornato dalla Tripolitania e li chiamava Simun, Armattan e Ghibli, e anche un vento del nord il Fon, portato da chi aveva fatto la guerra sul Carso. Uno solo dei venti africani arrivava a volte fino all'isola, guidato dalle correnti marine attraverso un buco tra le masse d'aria lungo e stretto come un corridoio. Era il Kasmin, il vento nero e rovente, che aveva portato le tenebre in Egitto ai tempi di Mosè. Kasmin suonava il flauto. Era un flauto a due canne, una più bassa e l'altra più acuta, ma sempre insinuante e sottile. Le note similavano rotonde e leggere, volavano attorno, giravano veloci, ma ogni tanto ne usciva una diversa, disarmonica e dissonante, che le stava sospesa nell'aria come un granello di polvere. Gli altri venti diabolici suonavano i violini, ma non piano in sottofondo, li suonavano forte, come solisti, compatti e insistenti come uno scroscio di pioggia, vibranti come fiamme, sempre più intensi, più stretti e più acuti, e anche tra quelli ce n'era qualcuno che si alzava, che usciva storto, inclinato, dalla parte sbagliata, pungente, come uno spillo dimenticato. Si avvicinavano dal nulla anche ora, invisibili in quella nebbia luminosa, sbattevano contro la vetrata opaca del faro e schizzavano via come scintille bianche, mentre l'ufficiale postale oscillava lentamente. Oscillava piano come un metronomo, pianissimo, mentre i venti suonavano sempre più mossi e veloci, come un metronomo rovesciato, perché non era la testa in alto che si muoveva a destra e a sinistra, mentre la base restava agganciata al perno, ma erano i piedi a disegnare un angolo, con una linea corta e leggermente curva. Chiuso nella torretta del faro, sigillata dalle vetrate e impermeabile ad ogni spiffero d'aria, non c'era ragione per cui l'ufficiale postale, appeso per il collo a una trave del soffitto, non dovesse rimanere immobile come un filo a piombo, in un cono sottovuoto. Eppure oscillava. 29 È la seconda volta che vi trovo vicino a un morto ammazzato. È la seconda volta che mi capita. Che cosa volete che vi dica? Sarà il mio karma. L'ufficiale postale aveva smesso di oscillare, abbracciato stretto per le gambe dal brigadiere, che in piedi sul tavolo aspettava di farselo ricadere addosso, mentre una camicia nera arrampicata sulla trave segava la corda con un coltello. Appena aveva saputo della morte dell'ufficiale, Mazzarino era corso al faro con due militi e aveva insistito col commissario per entrare a dare una mano. In quel momento si aggirava per la stanza spiando in ogni angolo, inquietto e frenetico, come un cinghiale, in un campo di patate. L'inglese gli lanciò un'occhiata indifferente prima di tornare con lo sguardo al corpo dell'ufficiale che si era staccato dalla trave e si era piegato sulla spalla del brigadiere, come un sacco, con un tonfo rigido che lo aveva fatto barcollare. Non crederete che sia stato io ad appenderlo lassù, disse l'inglese. Come avrei potuto? Sono alto la metà di quest'uomo, ma forse pensate che abbia un complice, Martina o mia moglie, perché a parte voi sono le uniche persone che conosco su quest'isola. Togliamo Martina, che è troppo gracile. Resta mia moglie. Lei sarebbe abbastanza alta e forte ad aiutarmi, non pensate? Smettetela, io non penso niente, disse il commissario. Il corpo caldo e snello della moglie dell'inglese gli era tornato in mente con tanta forza da stringergli lo stomaco. Il brigadiere aveva appoggiato l'ufficiale sul pavimento, si era piegato sulle ginocchia fino a metterlo a sedere e poi lo aveva trattenuto per la corda, perché non crollasse sulla schiena. Quando toccò le assi del pavimento con la nuca, il cadavere voltò la testa verso il commissario, che distolse lo sguardo e fissò Mazzarino. Sembrava che non ci fosse altra possibilità in quella stanza, o guardare l'ufficiale morto o guardare Mazzarino. «Cercate qualcosa, capo manipolo?» chiese il commissario. «Quello che trovate è di pertinenza della questura, non dimenticatelo!» «Io non cerco niente!» ringhiò Mazzarino. «Guardavo solo se c'era una lettera o un biglietto d'addio!» Rimise sul piano del tavolo il quadernetto nero dei telegrammi, che aveva cominciato a sfogliare e congiunse le braccia sul torace, alzando il mento. «Piuttosto, perché non chiediamo a questo bel tomo cosa ci faceva qui?» «Sono venuto a fare un telegramma», disse l'inglese. Infilò una mano nella tasca della giacca e sfilò un foglietto piegato in due. Mazzarino fece un passo avanti, tendendo la mano, ma l'inglese porse il foglio al commissario, che lo prese con due dita. «Uno dei vostri soliti telegrammi», disse, «posso sapere a chi li mandate?» «Posso», disse Mazzarino, «quanti li guardi, eccellenza!» «Li mando a un ferdomo opposta in continente». Il commissario annuì. Lo sguardo gli cadde di nuovo sul cadavere e di nuovo voltò la testa. L'ufficiale postale aveva un occhio aperto e uno socchiuso e un grosso livido violaccio e nero all'angolo della bocca, dove doveva essersi morso la lingua. «Non abusate della mia pazienza, per favore», disse guardando Mazzarino, ma era facile capire che si rivolgeva all'inglese. Il capo manipolo ha ragione. Posso è soltanto un riguardo dovuto alla cortesia. In realtà voglio sapere a chi li mandate. «Ha un amico, ha un cittadino straniero di nazionalità inglese, inglese per davvero. Non conosco il suo attuale indirizzo, ma so che in questo periodo passerà dalla città per il fermo posta e così gli mando un messaggio ogni giorno, sperando che riesca a leggerlo». «Come si chiama questo straniero?», disse il commissario. «Cromley, Alster Cromley, ma io lo chiamo il maestro». «Il maestro di che? Di ballo?», chiese Mazzarino. L'inglese sospirò. «Si occupa di filosofia», disse, sempre rivolto al commissario. «Ricerche filosofiche, su tutti i testi molto antichi. Ma non è una spia, se è questo che pensate?» «Io non penso nulla, ve l'ho detto». Il brigadiere si avvicinò al commissario e gli porse un quadernetto nero. Era identico a quello che c'era sul tavolo davanti al telegrafo e doveva averlo trovato nel giree dell'ufficiale dal momento che l'ultima volta che aveva guardato il cadavere era proprio lì che aveva visto il brigadiere, Chino, a frugare nel tasca del morto. «Cos'è?», chiese Mazzarino curioso. «Cos'è?». Il commissario prese l'altro quadernetto dal tavolo del telegrafo, stessa copertina nera e granulosa, stesso elastico rosso, a stringerne le pagine. E dentro stessa calligrafia inclinata e stesse parole graffiate sui quadretti con una matita a mina dura. «Pertinenza della questura», disse il commissario, infilando i quadernetti nella tasca del panciotto. «Il dottore non arriva?» «Ha detto che non c'è bisogno», disse il brigadiere, che si capisce che è un suicidio e che siete autorizzato anche voi a constatare il decesso. Lui ha da fare in paese con una peritonite acuta. «Valenza», pensò il commissario, e lo disse prima ancora di riuscire a trattenersi. «Valenza, dov'è Valenza?» Mazzarino strinse i denti, abbassando il mento sul petto come un cinghiale pronto a caricare. «Pertinenza della milizia, sta in galera per indisciplina, e la cosa non vi riguarda, eccellenza». Alzò un dito e lo fece girare in aria, seguendo il perimetro della cupola. «Pertinenza della questura», disse. Poi abbasso il dito e lo puntò fuori dalle vetrate, sul nulla bianco dietro al quale, da qualche parte, doveva trovarsi la caienna. «Pertinenza della milizia». Il commissario annuì ancora, e anche questa volta evitò di guardare il cadavere. Lo indicò il brigadiere. «Mettiamo anche questo in ghiacciaia», disse. «Fatti aiutare da qualcuno. Se la milizia ha così voglia di dare una mano, la milizia può fare di meglio», ringhiò Mazzarino. Afferrò un braccio del commissario e lo strinse tra le sue dita tozze e nere. Il commissario si irrigidì, la schiena inarcata da un brivido di paura, paura fisica, quando Mazzarino avvicinò il volto al suo. Ma il tono della voce, le narici, che si stringevano invece di allargarsi, feroci, e gli occhi socchiusi con malizia, gli fecero capire che quella era una confidenza e non un'aggressione. «Venite fuori con me e vi dirò una cosa, eccellenza, una cosa importante». Non ebbe il tempo di rispondere. Mazzarino scostò l'inglese con una spinta e uscì dal faro. Il commissario avrebbe potuto non seguirlo, ma avrebbe dovuto puntare i piedi e divincolare il braccio perché Mazzarino continuava a stringerlo. Non lo fece e così uscì con lui. Sul molo il vento non si era ancora calmato, il libeccio martellava a cupo le strutture e ogni tanto rompeva il rullio con un colpo metallico che riempiva la nebbia di spruzzi. Il commissario vide che Mazzarino sorrideva e quel sorriso gli fece paura. Gli fece pensare per un momento che il capo manipolo avrebbe potuto sollevarlo, prenderlo per le gambe e buttarlo in mare. Era un pensiero assurdo, non c'era ragione che lo facesse, eppure trovarsi lì da solo, davanti a Mazzarino che sorrideva feroce, gli mise addosso un terrore assoluto. La nebbia che li avvolgeva, bianca e soda come chiara d'uovo, sembrava modellarsi attorno al corpo tarchiato del capo manipolo, disegnandone il contorno invece di velarlo, come faceva con il suo. Finché il duce rispetta il re, disse Mazzarino, io rispetterò il suo commissario, per questo tra un attimo tenerò a chiamarti eccellenza come vuole il duce, ma adesso ti dico questo, brutta carogna di uno sbirro, stai per fare la figura del coglione. Aveva capito fine, la fine del coglione, e di nuovo la paura gli gelò la schiena. Poi l'eco che gli ronzava muta nella memoria recuperò la parola giusta, figura, e allora corrugò la fronte incuriosito. Che intendete, iniziò, ma Mazzarino lo interruppe avvicinandosi, non c'era parapetto alle sue spalle, così il commissario non potè indietreggiare, e Mazzarino arrivò quasi a sfiorargli il naso con la fronte. La milizia ha fatto le sue indagini, infallibile zelofascista, sbirro, te l'avevo detto. Conosco quest'isola meglio di te, e ho qualcuno che mi racconta le cose. Mi manca solo una notizia, una sola. Si alzò sulle punte per arrivare con la fronte a quella del commissario, e avrò in mano la spiegazione di tutta questa storia, e allora sai che faccio sbirro? La prendo e te la sbatto in faccia. E lo fece. Lo colpì sulla fronte con una testata corta e secca che gli risuonò acuta dentro il cranio. Poi Mazzarino scese sui talloni e si lasciò inghiottire dalla nebbia. — Stai proprio attento, sbirro, e stai pronto, gli disse mentre si allontanava invisibile. Stai per fare la figura del coglione. Trenta A volte, là in Sicilia, quando faceva molto caldo, sorella Cipris e la moglie dell'inglese uscivano dalla villa per andare a comperare la frutta. Si attraversavano la piazza del paese e non ce n'era uno di quegli uomini baffuti e bruni, fermi davanti al caffè, che non gli appiccicasse gli occhi sulle gambe nude, occhi taglienti di desiderio ma anche di sottile riprovazione. — Non erano vestite da femmine, dicevano gli uomini bruni, e anche le donne nele, che si affrettavano a chiudere le persiane quando loro passavano con le ceste piene di limoni e di arance, che brillavano sotto i raggi a picco del sole, con colori così vivi che guardarli faceva male agli occhi. Calzoni corti da militare, calzettoni rimboccati sul polpaccio, sandali e una camicia da uomo stretta in vita da un nodo, la moglie dell'inglese si vestiva così anche quando andava a raccogliere fiori nella villa in campagna degli zii, ma lì a Cefalù sulla costa settentrionale della Sicilia dava quasi scandalo. Forse era per quello, per dare un po' di scandalo, che quando passava davanti al sagrato della chiesa, sorella Sipris prendeva un'arancia dalla cesta e chiedeva al primo uomo Bruno che incontrava di aprirgliela in due col suo coltello, e lì cominciava a succhiare la polpa, grattandola dalla buccia con i denti, una gamba alzata sui gradini e la coscia umida di succo lucente appiccicoso. Poi, appena vedeva l'uomo tendere le labbra in una risata nervosa e ansimante di desiderio, smetteva all'improvviso, cingeva con un braccio il fianco della moglie dell'inglese, se la stringeva addosso e se ne andava assieme a lei. A Love Day certe cose non piacevano. Diceva che forse era meglio non tirare troppo la corda, che si trovavano in un paese straniero e che lo scandalo poteva nuocere a tutti, ma il maestro diceva che erano lì proprio per questo, che «fai quello che vuoi» era la legge, e che lo scandalo era il minimo per un gruppo di eccentrici inglesi che vivevano in una bazzia. «Love Day», diceva il maestro, «era ancora troppo convenzionale, ancora poco illuminato, e poi, lì, a Telema, era l'ultimo arrivato. Una volta la moglie dell'inglese lo sentì parlare con suo marito. Sedevano sullo scalino di pietra sotto l'altare esagonale e non si erano accorti di lei perché si era tolta i sandali e i calzettoni e si era avvicinata in punta di piedi. Non lo aveva fatto apposta per non farsi sentire. Poco prima aveva corso sulla riva del mare con sorella Cipris, e in quel momento si divertiva a guardare come, sollevata sulle dita in quel modo, le impronte umide e sabbiose che lasciava sul marmo del pavimento fossero tronche, come quelle di un gatto, di un cane o di un lupo. Love Day stava dicendo all'inglese che non avrebbe potuto fare certe cose con lei perché gli ricordava sua moglie. Non con lei, non con un'altra. L'inglese aveva risposto che lei non era un'altra. Love Day, amico mio, gli aveva detto, lei non è una donna, una donna in carne ed ossa, è un succube, un demone, che ha assunto sembianze femminili per unirsi sessualmente agli uomini. Love Day, amico mio, aveva detto, l'ho evocata io durante un sabba un anno fa. E Love Day aveva detto, Sant'Anna, ti prego. Alla fine anche Love Day ce l'aveva fatta. Seduti faccia a faccia sull'altare esagonale, le gambe aperte e allacciate attorno ai fianchi, abbracciati stretti a premersi con i talloni l'uno dentro l'altra, avevano guizzato veloci come le fiamme delle candele riflesse sulla loro pelle nuda e lucida di sudore, osservati dagli sguardi accesi del maestro, dell'inglese e di tutti gli altri. E alla fine anche Love Day, come il maestro, come tutti quelli prima a Londra, il banchiere, l'archeologo, il funzionario delle colonie, come anche l'inglese stesso, sembrò dimenticarsi di lei. Quasi che dopo quel primo momento di desiderio, di imbarazzo e di passione, rimanessero solo le implicazioni di quello, e lei, lei in quanto lei, svanisse nell'aria, come un sogno notturno alla mattina. Forse sono davvero un succube, aveva pensato seduta sul divano di broccato rosso della sua camera da letto a Telema, le gambe sollevate, piegate assieme sotto le anche, la testa inclinata su una spalla e un'onda di capelli tagliati alla maschietta che le era ricaduta su una guancia, a coprirle anche gli occhi. Forse davvero non sono mai esistita. A questo pensava la moglie dell'inglese, alzandosi dal divano di vimini intrecciato della sua camera da letto sull'isola, e chiudendo gli occhi in una tristezza che non provava da tempo, immergeva le dita nell'acqua di un catino per lavarsi le mani, aspettando che l'inglese tornasse dal paese dove aveva portato a riparare il violino. Per un momento, un momento solo, la sfiorò il ricordo del commissario, del suo desiderio e del suo imbarazzo, ma fu solo un attimo, tiepido e veloce, come le gocce che le scorrevano tra le dita, perché era sicura che, in un modo o nell'altro, anche lui l'avesse già dimenticata. 31 Che succede qui? C'era una camicia nera accovacciata sulle ginocchia al centro del suo soggiorno, faceva scorrere la mano sulla gamba nuda di Martina, e non si era neppure voltata quando il commissario era apparso sulla porta. Martina alzò gli occhi, invece, sorridendo, perché la mano rubida del miliziano le faceva solletico. «Che succede?» ripetè il commissario. La camicia nera si alzò, continuando a far scorrere le dita sulla gamba della ragazzina. La sottana del grembiale ricadde sulle cosce di Martina dopo aver scoperto per un momento il profilo oscuro delle natiche e una macchia più chiara e sottoposta in cima alla linea ossuta delle gambe unite. «Mi manda il capomanipolo Mazzarino!» disse la camicia nera. «Ti manda a toccare le gambe della mia servetta?» Il miliziano sorrise. Aveva la mascella storta, piegata da una parte da quella che poteva sembrare una paresi. Il sorriso, che gli si aprì sui denti, era ad angolo retto. «No, eccellenza, disse, c'è un telegramma per voi!» «E me lo manda il capomanipolo il telegramma?» Il miliziano sorrise ancora. Aveva una specie di ciste sotto lo zigomo che gli deformava il volto, alzandogli una guancia. Oltre la bocca anche gli occhi sembravano ad angolo retto quando sorrideva. «No, eccellenza, nel manipolo abbiamo un camerata che faceva il marconista durante la guerra. Adesso il telegrafo lo manda avanti la milizia». «Ma bene», pensò il commissario. Anzi, il miliziano corrugò la fronte, come se si sforzasse di ricordare. «Il capo dice che, se gli ridate quei tacuini dei telegrammi, adesso che il telegrafo è nostro, che così continuiamo a segnargli noi». «Pertinenza della questura», disse il commissario. Tese la mano a palma in su e, quando vide che il miliziano lo guardava perplesso e storto, mormorò. «Dov'è questo telegramma?» «Me li fai imparare a memoria il vostro capomanipolo?» «Oh», disse la camicia nera, si affrettò a frugare nella tasca dei calzoni, estrasse un foglietto accartocciato e lo porse al commissario. Era un altro telegramma del Ministero degli Interni. «Direzione del personale», diceva. «Nuova destinazione pronta, provvedere trasferimento entro max giorni tre». Sul momento al commissario non venne in mente sua moglie, ma i tre cadaveri nella ghiacciaia dei pescatori. Sul momento non immaginò Ana sul ponte del vapore, aggrappata alla ringhiera di prua, che si voltava sorridendo verso di lui perché il vento salato la costringeva a schiacciarsi il cappello sulla testa. Sul momento gli vennero in mente Zecchino, l'ufficiale postale, e Miranda stesi sul ghiaccio, azzurri e nudi, e poi anche suo padre, vestito di nero, sul broccato rosso del letto di morte. Il senso dello Stato Cosa chiedeva il senso dello Stato? Obbedire al telegramma del Ministero e partire per la nuova destinazione entro max giorni tre? O terminare le indagini? L'accertamento della verità? La persecuzione del reo? Tre cadaveri nella ghiacciaia? Solo allora il commissario vennero in mente Ana e il suo cappello piegato dal vento. Il capo manipolo si congratula con l'eccellenza vostra, disse la camicia nera. Dice che quando partite vi accompagna lui personalmente al vapore militare, con la lancia della milizia, voi e la vostra signora, con molto piacere. Non ne dubito, disse il commissario. Il miliziano si voltò verso Martina, che aveva smesso di ascoltarli fin dalle prime parole, e aspettava solo che il commissario le dicesse di andare a casa. Immobile e indifferente, guardava il cavallo teso dei calzoni alla zuava della camicia nera, che sorrise quando se ne accorse, storto e nervoso. Fuori, disse il commissario, ringrazia il capo manipolo e digli che non mancherò, ma adesso fuori. Agitò la mano, spazzando l'aria con le dita, più veloce, quando la camicia nera si fermò sulla porta a gridare, saluto al duce, ma bloccò la mano appena Martina si mosse. No, tu no, aspetta un momento. Perché aveva detto a Martina di rimanere? Se lo chiese, mentre entrava in camera, infilando il telegramma nel taschino del panciotto e spingendolo in fondo con la punta d'un dito, poi si accorse che Ana lo stava guardando e si vergognò di quel gesto. Era un miliziano, disse tanto per dire qualcosa, ma Ana continuò a fissarlo, seduta sul bordo del letto, le mani strette una sull'altra. Non poteva averlo visto, non poteva sapere cosa avesse nascosto in tasca, eppure sbatté le palpebre nella penombra. Disse, tu non vuoi partire. Io? disse il commissario. Non è vero, perché dici questo? Istintivamente mise una mano sul taschino, infilandoci dentro le dita. Tu non vuoi partire. Tu non vuoi andartene. Se lo volessi, avresti già preparato la valigia come ho fatto io. Se lo volessi, parleresti sempre del viaggio come faccio io, e della casa nuova e del paese nuovo come faccio io. Stava alzando la voce. Ogni parola suonava più acuta e pungeva un po' più di quella di prima. Stava per mettersi a urlare come non faceva più da tempo, come una volta quando si impigliava in un pretesto, ci si aggrappava e insisteva con i pugni chiusi, come i bambini, finché non cominciava a gridare così forte che bisognava abbracciarla, stringerla e schiacciare la bocca aperta contro il petto perché smettesse contro la stoffa della camicia che diventava calda e bagnata. Il commissario si mosse in fretta, si avvicinò e si piegò in ginocchio, sfilando il telegramma dal taschino. No, 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 aspetta, disse, infilandoglielo tra le mani, guarda cos'è arrivato. Volevo dirtelo dopo, volevo farti una sorpresa, guarda. Si sedette sui talloni e rimase ad osservarla mentre apriva il telegramma. La vide sorridere ancora prima di socchiudere le palpebre per riuscire a leggere nella penombra. Allora sospirò. Prese una pantofola che era scivolata sul pavimento e gli era infilò nel piede che penzolava oltre il bordo del letto. Era ghiacciato e sentì che lei ne arquava la pianta per tenere la pantofola in equilibrio sulle dita. Partiamo subito, disse lei, ora. Aspetta un momento. E perché? Devo lasciare le consegne, preparare l'ufficio, non posso lasciare tutto così. Perché? Ci sono affari in sospeso, c'è una cosa che devo fare, che devo chiudere. Perché? Stava alzando la voce ancora. Lui allungò una mano per toccare le sue, ma lei fraintese il gesto. Strinse il telegramma fra le dita e se lo premette contro il ventre, nascondendolo quasi sotto la vestaglia. La pantofola le scivolò di nuovo dal piede. Solo una cosa, Ana, una sola. Mi basta un giorno e poi partiamo. Domani no, dopodomani. Entro i termini del telegramma. C'era un raggio di luce che filtrava tra le persiane serrate di una finestra. Era una luce bianca e polverosa e, data l'ora, doveva essere un raggio di luna. Tagliava la penombra e passava attraverso la punta del piede nudo di Ana. La toccava sull'unghia dell'alluce, che così sembrava trasparente, come fatta di ghiaccio. Il commissario allungò una mano e le coprì le dita da quella alluce e fredda. Le sollevò il piede, stringendoselo al petto. Vedrai, Ana, vedrai, mormorò, ma lei non lo lasciò continuare. Lo spinse via con il piede, forte, tanto da farlo cadere indietro, seduto sul pavimento. Poi rapida tirò le gambe sul letto e scivolò lungo la coperta fino a scendere dall'altra parte. Là, incastrato nell'angolo del muro, c'era il grammofono. Il commissario lo sentì prima ancora di riuscire ad alzarsi, le mani appena appoggiate al pavimento freddo. Sentì la manovella che cigolava metallica nella cassa e sentì il piatto che iniziava a girare, scricchiolando, sentì la gomma lacca crepitare sotto la puntina. Tra i tanti amici miei ci sta un amico e ve lo dico, è Ludovico. Si alzò senza guardarla, le voltava le spalle, una mano sulla maniglia della porta. Sapeva che non si era mossa, che non era andata a sedersi sulla sedia a fissare la polvere. Sentiva gli occhi di Ana sulle sue spalle, minacciosi come un avvertimento. — Dopodomani, Ana, disse forte per coprire Ludovico, te lo giuro, dopodomani sul ponte del vapore. Lei non si mosse. Non avrebbe potuto sentirla con il grammofono in funzione, ma sapeva che era ancora là, a guardarlo, minacciosa. Allora aprì la porta e uscì dalla camera. Fuori, nel soggiorno, Martina era ancora ferma ad aspettarlo, nella stessa posizione, la sottama ancora un po' rialzata sulla coscia come impigliata. Il commissario evitò di guardarla. — Puoi andare a casa, le disse, ma prima passa dal brigadiere, fallo venire qui di corsa, e digli che si porti un fischietto. 32 In realtà, l'idea di come risolvere concretamente la questione del telegramma l'aveva avuta Miranda. Era lui che aveva scrollato le spalle, aveva sputato il filo d'erba che stava masticando, aveva detto, il telegrafo. Era notte, e lui e Mazzarino erano saliti fino alla scogliera per tirare ai gabbiani in volo. Di solito i gabbiani non volano col buio, ma lì era diverso. Lì, in quella rada circolare scavata nel fianco dell'isola, come un fiordo a forma di tenaglia, il sole restava a illuminare il mare anche molto dopo che era tramontato. Non era la luce gialla del giorno vero, era quella rossiccia del crepuscolo, ma continuava a brillare lo stesso, assorbita da migliaia e migliaia di meduse che galleggiavano a pilo d'acqua e la restituivano ingigantita dai cristalli di sale incastonati negli scogli, come se il tramonto, al momento di scivolare nel mare, fosse stato afferrato da quella tenaglia di roccia e tenuto stretto, fin quasi all'alba. Dicono che non si spara ai gabbiani perché sono le anime dei marinai morti, aveva detto Miranda la prima volta che erano saliti fin là con i fucili in mano. È proprio questo il bello, aveva detto Mazzarino, così muoiono due volte. Non sparavano a tutti i gabbiani. Per un tacito accordo che era nato così per consuetudine, tiravano solo a quelli che volavano sulla scogliera illuminata e finivano per trovarsi inquadrati in un semicerchio di pietra sgranocchiato dal vento. Quell'arco quasi a picco sugli scogli doveva essere tutto quello che era rimasto di un edificio, forse una casa, un tempio, un magazzino, costruito molto tempo prima e franato in mare assieme a parte del terreno. Il fatto che quel rudere se ne stesse in piedi da solo, in cima a un fosso, a chiudere l'orlo di un buco, e non avesse dietro erba o roccia che si intravedessero a guardarvi dentro, ma soltanto cielo e mare, che si confondevano assieme sia di giorno che di notte, creava uno strano effetto ottico. Sembrava che in quella cornice non ci fosse nulla, nessun mare, nessun orizzonte, nessuna terra lontana, nessun continente, ma solo un infinito color piombo. E a guardare dall'altra parte, a girare attorno all'arco, tenendosi stretti alla pietra per non cadere di sotto, succedeva la stessa cosa, ma al contrario. Non era più il mondo a sparire, ma l'isola, come se non fosse mai esistita. Il telegrafo è l'unico collegamento dell'isola con il resto del mondo, aveva detto Miranda. Bisogna convincere l'ufficiale postale. E Mazzarino aveva grugnito, stirando le labbra, si convince, si convince. Quando i gabbiani salivano dalla scogliera al pezzo di infinito inquadrato dall'arco, le ali spiegate per resistere alla pressione del vento e il becco teso in avanti a bucare l'aria, sembravano fermi, come sagome di un tiro a segno. Era allora che gli sparavano, e quando li colpivano quelli serravano le ali e cadevano giù, senza un grido, sparendo dal cielo, come se non fossero mai esistiti. — C'è il segretario richiamato a Roma, aveva detto Miranda, e il commissario che va in pensione. Convinceremo anche quelli. Già aveva sorriso Miranda. — Con l'alittorio. Mazzarino lo aveva guardato mentre si stendeva sull'erba, le mani intrecciate dietro la nuca e un altro filo d'erba tra i denti. Non era stupido Miranda. A differenza di quegli animali che aveva nel manipolo, che pensavano, agivano e sentivano in completa dipendenza da lui, come se fossero un'emanazione fisica del suo corpo, Miranda non era stupido. Lo aveva guardato sospirare, gli aveva visto il petto liscio e ampio sollevarsi sotto la camicia nera sbottonata fino al ventre piatto stretto dal cinturone. Era bello, Miranda. Piaceva a tutte le donne e non era stupido. Ma era completamente privo di emozioni e di passioni, completamente privo di qualunque tipo di ambizione. Sarebbe rimasto camicia nera semplice in qualunque posto lo avessero messo, per sempre e dovunque, a vivere secondo dopo secondo e neanche di corsa, inseguendo l'attimo e neppure camminando, ma standosene fermo, sdraiato sulla schiena, a masticare un filo d'erba. Il sottosegretario non è un problema, aveva detto Mazzarino, quello una mezza sega e si convince anche senza l'alittorio. Come va con quella troia di sua moglie? Miranda aveva spinto il filo d'erba in un angolo della bocca, con la lingua, e aveva sorriso. Benone, le ho raccontato che ho una promozione in vista e che la porterò via di qui. Non ce n'era bisogno, l'hai detto tu, quella è una gran troiona, l'ho fatto per dare alla cosa un po' più di fuoco. Il commissario dice che quello che arriverà a sostituirlo è un po' carogna, ma è abbastanza giovane, ha una mogliettina carina. Miranda aveva sorriso ancora e il filo d'erba gli era sfuggito dalle labbra. Sistemeremo anche lei, aveva detto, e Mazzarino aveva grugnito annuendo, ti do il doppio, se te la fai con la moglie di quella carogna di sbirro. 33 Se era stata la luna a illuminare la penombra della stanza del commissario, qualcosa doveva averla inghiottita perché fuori non c'era più. Una nuvola scura e spessa come uno strato di vernice o un banco di foschia solido come una lasta di vetro affumicato? Oppure il vento, che in quel momento sembrava soffiare verso il cielo? Forse era stato quel vento nero e forte a spingere la luna sempre più indietro e sempre più lontana fino a farla sparire nello spazio. Vicino alle case, la luce che brillava dietro le finestre socchiuse, rischiarava il sentiero, ma appena erano usciti dal paese il brigadiere aveva dovuto accendere la lanterna e tenerla in basso per illuminare la strada. Camminava piano il brigadiere, come se trattenesse i passi, e il commissario lo aveva superato già due volte e alla terza era rimasto avanti, a indovinare le buche e i dossi del sentiero dai guizzi delle ombre rosse della lanterna. Camminava piano il brigadiere, perché aveva paura. Fine Terza cassetta Lato B